un saluto a tutti da snowkills e bentornati su castle clash in questo video andremo a vedere siamo con il mio secondo account e andremo a vedere un po un role che ho fatto di 2000 gemme e dove però devo dire questo account free to play davvero davvero molto fortunato ho trovato un sacco di eroi senza alcuna difficoltà fra cui vlad e molti altri nel primo role ho trovato 30 euro e già qui ho pensato vabbè rollerò domani e invece col secondo role ho trovato teschio teschio che non ho nemmeno sul serio sul mio account principale quindi davvero ci sono stati attimi di delusione misti a felicità e anche con il terzo role abbiamo trovato anche mettitore brizzolato che non lo avevo su questo account 4 role tripli trovato di tutto purtroppo in questo video che ho registrato qualche tempo fa lo sono riuscito a portare soltanto al livello 80 ma lo andiamo subito a vedere per esempio in un dungeon che ho voluto fare e la cosa che ho notato di questo eroe dopo la prima volta che l'ho usato e che davvero è un caterpillar in questo gioco cioè lui da solo praticamente guardate una bestia va e ogni colpo fa fuori uno nonostante al livello molto più basso degli altri e quando muore torna di nuovo refullato di tutta la vita quindi davvero un eroe pazzesco in questo gioco e spero proprio di trovarlo anche sul mio account dove sicuramente lo potrà far vedere voluto anche due volte perché questo eroe vale davvero la pena di essere portato avanti per questo video è tutto lasciate un bel like se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video